Si è conclusa con un focus dedicato all'Italia, la quindicesima edizione del Terni Film Festival Popoli e Religioni. Una risposta costruttiva alla xenofobia crescente, ha detto il direttore artistico Arnaldo Casali, che ha lanciato anche l'appello alla regione per un sostegno economico alla Kermess. Film ed eventi dedicati alla mafia, con due cortometraggi sul giudice Falcone e Lea Garofalo, ad arte e cultura, volontariato e tradizioni popolari. A chiudere il caso cinematografico dell'anno, il film Bangla del 22enne Faim Bouyan.